vorrei parlarvi di una cosa partiamo questa volta parliamo delle piegature e state attenti alla sigla perché dopo ho qualcosa da dirvi la 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 dunque piegature qualche cenno sulla piegatura perché sono utili e tutto quanto qualcuno di voi dirà ma questa è la pubblicità della lezione che parte questa sera e si va anche e vi faccio vedere perché le sono utili le mie elezioni che partiranno appunto questa sera allora perché saper fare le piegature perché innanzitutto potete ad esempio in casi come questo poter riportare dei rami in modo tale che non rompano le scatole alla fine qual è l'utilità della piegatura tante volte il valorizzare un materiale no altrimenti lo prendiamo in vivaio e non sappiamo neanche che cosa farci ma non tanto a volte non lo prendiamo in vivaio non lo compriamo in vivaio perché non sappiamo cosa poterci fare quindi anche aperture scosciature di questo tipo vedete che qualcuno mi ha sgridato perché a volte non si capisce quando indico questo questo arnese è costruito da me può essere utilissimo e vedete scosciature come queste oppure rami riportati come questo che prima veniva in avanti e adesso se ne va dietro ha staccato e rincollato si vede ancora qualcosa qua ok oppure ancora rami ritorti come qua sotto vedete qua sotto un ramo diviso per il lungo così e ritorto in modo tale riportare l'apice oppure ancora questa parte di questo muro che una volta andava via completamente dritta di là grazie alle tecniche delle piegature guardate qua ora ha cambiato faccia questa pianta ancora questa parte della pianta ad esempio che prima non era qua ma era la andava così no e perché si è potuto perché guardate qua vedete questa piegatura col saperlo fare con la messa in sicurezza senza perdere rama importante è chiaro che poi magari sono non sono lavori che farete voi da soli perché vi servirà un istruttore qualcuno che vi affianchi all'inizio però il conoscere il perché le tecniche la fisiologia come permettere questa piegatura è quello che vi consente prima di preparare i materiali a casa vostra e poi di procedere con le pieghe ma soprattutto anche poi di accudirli una volta piegati perché il duro non è avere la cosa difficile non è aver la forza per piegarlo è prepararlo prima e mantenerlo in vita dopo è questa parte qua ad esempio dove la mettiamo che vedete quel foro prima era un tutt'uno è stata ripiegata indietro guardate vedete prima andava tila e adesso noi l'abbiamo fatto ritornare di qui ok con delle fessurazioni qui abbiamo staccato un ramo che andava di là e adesso va di qua qui ancora vedete questi rami prima era un ramo unico adesso sono tre rami e ci fanno tutto l'apice metà pianta insomma ok dai ci siamo capiti bene o male perché è utile saper piegare per cui fate attenzione a quello che vi dico tanti lavori di quelli che vedete qua dietro alle mie spalle col dito indicatore anzi devo inclinarlo un pochino può fare che si inclini e sono stati creati appunto da materiali poveri valorizzati con delle piegature è una cosa che potete fare anche voi ma se voi non sapete quanto può essere piegato ad esempio un materiale quel materiale se ne rimane lì a bancarella o nel garden o nel vivaio non lo comprate perché dovete capire quali sono a volte i limiti poi ripeto magari non lo dovete fare da soli voi all'inizio però capire come si prepara e dove potete arrivare vi aiuta anche a comprare materiali perché così farvi l'occhio quindi e a dare già un futuro a delle vostre piante ed una svolta anche al vostro livello bonsaistico e fare come professionisti che comprano un materiale grezzo lo valorizzano e poi si fanno la collezione se siete interessati questa sera ore 21 bonsaiclub.it andate su www.bonsaiclub.it slash meeting.html oppure andate su bonsaiclub.it e cercate le lezioni online le trovate li potete acquistare le lezioni e attenti a quello che vi dico cambiare la vostra sorte il modo di far bonsai scusate non per puntarvi il dito addosso ma grazie